L'arresto di tre minori accusati del pestaggio di un loro coetaneo lo scorso agosto e prima ancora il danneggiamento notturno del pallone tenso statico di via Francavilla a luglio sono alcuni episodi che in questo 2024 hanno scosso Villa Castelli, uno dei piccoli centri più distanti dal capoluogo. Anche per questo, anche per sottolineare che qui in provincia nessuno viene dimenticato, la visita del prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, ospita del sindaco Giovanni Barletta, assume un significato speciale che influenza la percezione, che stimola il confronto e alimenta la sensazione, che bella sensazione, di legalità e attenzione da parte dello Stato. È un giorno importante per me, è un giorno in cui mi è consentito dare un segno tangibile della mia vicinanza che non è soltanto formale ma sostanziale. L'avevo promesso al sindaco che sarei venuto, lo sto facendo con qualche giorno di ritardo ma sicuramente con maggiore convinzione dell'importanza che le istituzioni facciano sentire la loro presenza, la loro vicinanza a tutte le amministrazioni. Avremo modo di far vedere le cose belle che offre la città, tutto quello che è stato realizzato, ma parleremo anche di sicurezza perché ultimamente sono avvenuti alcuni casi spiacevoli sul nostro territorio e quindi oggi abbiamo la presenza dello Stato. Lo Stato è vicino ai cittadini e quindi per me è importante oggi ricevere la nostra città e parlare sia delle cose belle ma non delle cose brutte, anche delle cose che interessano la sicurezza, a tutela di tutti. Le strette di mano e i sorrisi tra cittadini, lavoratori e istituzioni sono qualcosa di più di una semplice passeggiata. Sono per Villa Castelli il riconoscimento di città brillante e accogliente dove forti sono i valori, forte è la presenza dello Stato.